Valentina, rinizia la vostra attività e cominciano sicuramente anche i corsi pre-parto? Sì, sì, dal 27 settembre ripartiamo con un nuovo corso. Ogni due o tre mesi noi apriamo le porte ai nuovi corsi di accompagnamento alla nascita che sono rivolti alle mamme e ai papà, questo per creare da sempre e da subito una rete di sostegno intorno alle donne, quindi vi diamo la partecipazione ai papà, a nonne, zie, a tutta la rete di sostegno che è accanto alle donne sia nella gravidanza che poi nel primo periodo dopo la nascita. I corsi sono composti da sette incontri che affrontano diversi temi che ruotano intorno alla genitorialità, quindi non solo lo sviluppo del feto, l'endogestazione, l'esogestazione, l'alimentazione, la cura di sé in gravidanza, poi affrontiamo ovviamente il travaglio e il parto, le strategie fisiche e psicologiche di gestione del dolore, dedichiamo una grande parte anche al sostegno all'allattamento materno e abbiniamo l'intervento sull'allattamento alla conoscenza della fisiologia del sonno del neonato, questo per accompagnare e sostenere fin dalle prime fasi. Ci occupiamo ovviamente anche di puerperio, prime cure del neonato, cerchiamo insomma di fornire una serie di informazioni che rendano le famiglie competenti per poter gestire da subito le sfide che riguardano la genitorialità. I giovani di oggi sono pronti ad accogliere la nascita di un figlio? Sono coppie molto più consapevoli che hanno voglia di farsi sostenere. Abbiamo osservato negli anni un sempre maggiore coinvolgimento dei padri, non come supporto ma come figure attive che vogliono essere coinvolte nell'accudimento, che forniscono un sostegno concreto alle mamme durante la gravidanza e sono protagonisti attivi della loro genitorialità. In linea con quanto ci dicono le ricerche che hanno smentito l'esistenza di un istinto materno, piuttosto le ricerche sostengono l'idea che ognuno può prendersi cura, sapersi mettere nei panni dell'altro, coglierne i bisogni, è una competenza che è tanto degli uomini quanto delle donne. I papà sono prontissimi, sono pronti ad aprirsi a questo ruolo e a goderne fino in fondo. Quindi diciamo che è un impegno di coppia? Assolutamente di coppia perché il passaggio è dalla diade alla triade e noi vogliamo sostenere le nuove famiglie che nascono e che questo richiede un coinvolgimento sin dalle prime fasi. Quindi nelle donne la capacità di coinvolgere gli uomini e negli uomini la volontà di mettersi in gioco in un ruolo che non sempre gli è stato concesso. In qualche modo è anche un contrasto a quelli che sono gli stereotipi di genere che purtroppo hanno pervaso la cultura fino a un certo periodo di tempo, ma adesso noi stiamo osservando concretamente un punto di svolta e quindi cerchiamo di sostenere questo cambiamento.